Io ho sempre detto di rispettare le indicazioni e usare la prudenza, il buon senso e la precauzione. Dico però che se io sono all'aperto cammino da solo me ne vado in bicicletta dove non mi fermo con nessuno. Io vado senza niente perché mi pare che questo era venuto fuori. E questo era scritto nel DPCM, il mio messaggio non andava contro nulla perché so anche leggere ancora qualcosina. E non è un messaggio manualizzante, è un messaggio di dire non fatevi perché adesso li vediamo con la mascherina in macchina. Avete capito dove siamo arrivati? Da soli, in macchina, con mascherina, noi a camera neanche là. Questo era il problema.